Ciao bambini, ciao bambine! Oggi vi presento l'albo illustrato La giornata è più bella di Teresa Capezzuto, illustrato da Alberti Vaneri, edito da Il Ciliegio Edizioni. La giornata è più bella quando nel buio brilla una piccola luce accesa di affettuosa dolcezza, quando un nome da maschio o da femmina non fa la differenza, quando nuotano pesci nel cielo e volano uccialli nel mare, libera corre l'immaginazione, quando parole gentili se ne vanno, si richiamano, poi ritornano. Sono andata allo zoo, mi sei mancata, ciao come va? Siamo qui, aspettatemi! Quando nel coro voci belle e brutte cantano insieme, vera armonia, quando la casa ha sempre un posto per l'ospite inatteso. Questo è un bellissimo libro, è albo illustrato sulla gentilezza, sulle belle parole, sullo stare insieme. È la giornata è più bella. Di Teresa Capezzuto e Albertina Neri, edizione Il Ciliegio.